buona giornata amici da massimo foghetti vi auguro una buona giornata oggi sono già le 7 di sabato 9 luglio 2022 questa è la rassegna stampa di fano tv leggeremo insieme i giornali a partire dal resto del carlino il corriere adriatico la sintesi delle notizie di carattere locale ma prima passiamo per l'almanacco e vediamo il santo del giorno è un santo anzi una santa molto molto vicina a noi è nata pensate a mercatello sul metauro si tratta di santa veronica giuliani è nata nel 1660 nella frazione nel paese lungo il metauro nel nostro entroterra entrata nel convento dei capuccini a città di castello prese il voto a 17 anni ebbe molte visioni durante la sua vita e subì l'incoronazione di spine e quindi ricevete anche le stimmate divenne badessa del suo convento dove morì dopo 50 anni di vita claustrale questa la santa di oggi domani invece è un santo che vi annuncio fin da oggi particolare per fano in quanto è la festa del santo patrono san paterniano ci saranno tantissime celebrazioni religiose nella basilica che custodisce il corpo del santo e dobbiamo subito dire che alla messa la messa delle undici sarà trasmessa in diretta su fano tv quindi chi non può muoversi può seguire questa celebrazione molto molto sentita appunto da tutti i cittadini sui nostri teleschermi vediamo anche le previsioni del tempo vediamo che il tempo si mantiene stabile su tutta la regione anzi dobbiamo dire che una certa variabilità esiste perché da una parte abbiamo il sole dall'altra parte abbiamo le nubi ma di acqua se ne vede poca e quando se ne vede se ne vede in maniera turbolenta perché poi la precipitazione diventa veramente un problema con la violenza per cui si è con cui si attua dunque il tempo stabile salvo qualche piovasco sull'ascolano dove al cielo sereno si alterna un tempo nuvoloso ci sarà anche il vento le massime arriveranno fino a 28 29 gradi insomma come la temperatura di ieri il vento spirerà sulle coste da una direzione del da nord e così anche sull'entroterra il mare è mosso apriamo dunque oggi per primo il resto del carlino sulla pagina di fano ecco l'articolo che riguarda la festa di san paterniano purtroppo una mancanza sì una mancanza non ci sarà la tombola tradizionale che raduna circa 2000 fanesi in piazza 20 settembre per sostenere un po' anche la comunità francescana dei frati di san paterniano dai monopoli stop al patrono niente tombola domani per la festa di san paterniano non ci sarà il consueto appuntamento in piazza mancano i permessi lo ha dichiarato l'assessore etienne lucarelli purtroppo quando quando quest'anno siamo usciti dal covid e si sono create le condizioni per organizzare gli eventi non c'erano più i tempi tecnici per ottenere i permessi dai monopoli dello stato sono pratiche queste complesse quando c'è una lotteria anche se i premi sono minimi perché in tutto mi sembra che si arrivasse a 2500 euro quindi non è che erano premi milionari il prossimo anno però la riprenderemo questa tombola ha detto lucarelli ogni in ogni caso ci sarà una festa in piazza per onorare il patrono con un concerto organizzato dall'associazione on stage ebbene ci sarà dunque della musica dell'intrattenimento in piazza 20 settembre comunque il club della festa si celebrerà in basilica dove ci saranno appunto una serie di celebrazioni anche con la presenza del vescovo trasarti l'altro articolo pubblicato a piena pagina dal resto del carlino riguarda tre donne tre donne laureate che hanno scelto la campagna come il loro lavoro contadine con la laurea e l'orto dei cervelli alessandra cecilia e silvia hanno avviato un'impresa agricola metauriglia coltiviamo con le nostre forze senza mezzi meccanici hanno detto è un po' un'iniziativa che si inserisce nell'orto di mare quella iniziativa che è stata organizzata dal comitato di metauriglia che si occupa della valorizzazione della frazione del recupero della sua storia del suo assetto urbanistico ebbene è un esempio da imitare perché anche i giovani possono imbastire e impiantare il loro futuro nella coltivazione della terra e poi con tutte le pratiche moderne che ci sono oggi anche la tecnologia viene in aiuto una ha studiato legge un'altra economia e la terza scienze antropologiche però insomma la tradizione ce l'hanno nel sangue queste ragazze classe pollaio da 25 allunni lira dei genitori a monte porzio a monte porzio c'è una classe del istituto elementare monsignor polverari della frazione di castelvecchio andando a vedere i quadri esposti all'esterno della sede principale che è quella dell'istituto fermi di mondolfo si è appreso che in questa prima elementare ci saranno 25 bambini dei quali addirittura tre sono bambini disabili insomma quando ci sono i bambini disabili il numero delle degli degli studenti in una classe dovrebbe essere ridotto per dare la possibilità alle insegnanti di occuparsi compiutamente anche dei bambini che hanno difficoltà di apprendimento invece in questo caso abbiamo un ammassamento che non si intonerebbe con lo spirito della legge la norma nazionale infatti prevede che le sezioni della scuola primaria siano costituito da un numero massimo di 26 allunni salvi i casi di presenza di bimbi disabili e nella fattispecie visto che i ragazzini diversamente abili sono tre lo sdoppiamento della classe in due dovrebbe essere automatico così invece non sembra che sia e quindi la protesta dei genitori veniamo ad urbino dove si parla dei metodi per far fronte alla società alla siccità scusate risolvere il problema no ai grandi invasi facciamo una rete di laghi lo dice il progetto acqua il progetto acqua è un'associazione una rete di cittadini attenti all'ambiente vanno costruiti sia nell'interno che verso la costa è una soluzione che allo studio anche dei tecnici anche l'aset per quanto riguarda la erogazione dell'acqua potabile nel nostro territorio cerca una soluzione ad una siccità che ormai non è più solo un problema estivo ma è anche invernale cioè tutto l'anno tutto l'anno a mercatello sono venuti alla luce resti di una fattoria romana questo durante i lavori durante i lavori preventivi per i futuri lotti dell'affanno grosseto questi tratti di superstrada che ancora mancano per collegare le marche all'umbria ebbene sono venuti alla luce in seguito dei sondaggi preventivi effettuati dalla sovrintendenza in questo caso li dirige diego voltolini che è appunto un funzionario della sovrintendenza ebbene sono venuti alla luce resti di una fattoria romana si distinguono chiaramente diverse stanze una delle quali occupate da una grande vasca quadrangolare in cocciopesto probabilmente sfruttata per la produzione del vino il cocciopesto è un specie di intonaco impermeabile per le pareti di alcune stanze debiti a scopi particolari come lascia presupporre la presenza dei fondi di grandi vasi utilizzati per la conservazione di alimenti e di liquidi sappiamo come le anfore servivano per contenere sia liquidi che le granaglie che insomma i prodotti della terra la fattoria sembra realizzata e usata tra il secondo e il primo secolo avanti cristo la fattoria non aveva finiture lussuose ma proprio perché era agricola ma è un presidio importante della romanità i cui reperti a mercatello si intendono conservare in un museo appunto fare una sezione particolare per questo ritrovamento e devo dire insomma che la romanità non cessa di venire alla luce nel nostro territorio peccato poi che molto si reinterra e anche in questo caso il rito sarà reinterrato per motivi conservativi e dovrebbero essere invece messi alla luce a scopi didattici a scopi dimostrativi a scopi turistici questi reperti perché l'archeologia è uno degli attrattori del turismo locale appello di donciotti per la fattoria della legalità ebbene è avvenuto è avvenuto nella fattoria della legalità a isola del piano uno schiaffo in faccia alla legalità c'è un progetto esecutivo già approvato dagli enti preposti per l'ampliamento del servizio offerto da questa fattoria da questo insediamento che è stato costituito grazie appunto ai proventi dei 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 luoghi sequestrati alla mafia ebbene sono 250 mila euro sono stati già stanziati dall'amministrazione regionale ma che ancora tardano ad arrivare ed ecco qui la reprimenda di donciotti che è intervenuto in questo caso ispiratore e fondatore dell'associazione libera contro i suprusi di tutta le mafie quando parla donciotti parla ovviamente una voce autorevole che deve farsi sentire dalle istituzioni a questo punto passiamo anche nelle pagine pesaresi dove vediamo un fatto di cronaca preoccupante il 118 col medico arriva ma solo dopo 20 minuti e una donna di 61 anni muore in arresto cardiaco è venuto ad auditore una frazione sopra pesaro alle 8 e 17 di ieri nella casa di una paziente l'ambulanza con i soli infermieri è arrivata alle 8 e 36 e da montecchio medicalizzata insomma dopo diversi minuti 20 minuti che hanno fatto la differenza tra la vita e la morte ed è questo il problema di tutti i residenti che risiedono nell'entroterra lontano da un centro medicalizzato da una struttura ospedaliera da una struttura di pronto soccorso dove la distanza fa veramente la differenza in cinque minuti un infarto può uccidere una persona ed ecco perché i soccorsi devono essere molto tempestivi e molto efficaci giriamo la pagina e vediamo il nuovo questore della provincia di pesaro urbino si tratta di raffaele clemente che ieri si è presentato alla stampa ha parlato di tante cose in questo caso anche della movida che viene messa in evidenza dal resto del carlino applicherò il metodo di roma infatti il questore stato dirigente della polizia locale romana per tre anni prima devo conoscere poi analizzare poi capire come intervenire vengo da san lorenzo a roma dove ho applicato questo metodo movida certo che se si vendono shortini a 50 centesimi avremo ragazzi ubriachi oppure se non guardiamo le strade di deflusso avremo ragazzi morti queste un po le dichiarazioni papali papali semplici ma efficaci effettuati ieri dalle questore il quale tuttavia è rimasto ammirato veramente dal nostro territorio certo che arrivare da roma da queste città così confusionari così caotiche anche se sono meravigliose passare a peso una città tranquilla una città di provincia una città ugualmente bella ebbene anche questo fa la differenza rebus per scongiurare il pericolo delle baby gang che cos'è rebus rebus è una iniziativa che punta dei vicinari giovani tra i 13 e i 30 anni e prevenire rischi e danni causati dal disagio giovanile è promossa dal comune di pesaro insieme alla labirinto alla cooperativa labirinto e ai quartieri 7 4 montegranaro e villa fastigi si articola con gli animatori di strada che impegnano i ragazzi con giochi karaoke teatrini tornei walk escape presentazioni di libri eccetera ovvero tutta quella animazione che può distrarre i ragazzi dalle deviazioni e da certi pericoli che si incontrano sulla strada al via il progetto del comune che coinvolge i ragazzi con attività di strada sanità via i doppioni intanto fioccano i direttori ebbene uno dei propositi del piano sanitario regionale dovrebbe essere quello di eliminare i doppioni e quindi ridurre le spese ma intanto si assume nuovo personale in base al piano di occupazione per l'asur marche area vasta 1 e quello appunto anche dell'azienda ospedaliera sono previste assunzioni a tempo indeterminato di quattro figure apicali nell'area amministrativa proprio sul filo di lana proprio indirittura d'arrivo le figure da assumere sono due direttori amministrativi a marche nord e due dirigenti amministrativi nell'area vasta 1 e questo ha fatto insorgere la consigliera regionale marta ruggeri del movimento 5 stelle che si è chiesta se sia opportuno che si assumano a tempo indeterminato ulteriori direttori amministrativi proprio nel momento in cui la riforma marchigiana avrebbe bisogno di accentrare l'attenzione su altri punti problematici e questo è un punto interrogativo che rimane sospeso ma la risposta è ovvia in sciopero e gli operai dell'abs l'azienda non ci rispetta hanno detto i sindacati non si tratta di rivendicazioni salariali ma si tratta di problemi e di altri problemi non si rispettano gli accordi che sono stati presi per quanto riguarda le ferie secondo i sindacati tre settimane ma anche solo due ed altri tre giorni anche se gli operai sanno bene che alcuni componenti non arriveranno mai per cui dovranno tornare a lavorare come se nulla fosse davanti alle linee di montaggio insomma ci sono problemi strutturali per quanto riguarda i rapporti di lavoro e gli operai hanno incrociato le braccia secondo le presenze però non sono state superiori gli superanti al 20 per cento fanuli 250 toga in silenzio per ricordarlo è il momento commemorativo del presidente del tribunale di pesaro che è deceduto inaspettatamente probabilmente per problemi cardiaci nel suo appartamento commozione in tribunale tra magistrati avvocati impiegati e personale perdiamo non solo un grande giurista ma una persona retta e quello che ha destato commozione era il l'animo di questo giudice che oltre a far rispettare la legge era anche un uomo sensibile alle istanze di coloro che dovevano essere giudicate palascavolini esposto in procura di fratelli d'italia ebbene sappiamo tutti come si dilungano i lavori del palascavolini e di conseguenza sono aumentate anche le previsioni e di spese sono passate infatti da 8,5 milioni di euro complessivi a un milione in più 9,5 milioni e su questo c'è un esposto in procura da fratelli d'italia che denuncia lo sperpero delle risorse pubbliche anche un ricorso alla corte dei conti e alla finanza vedremo come si farà luce intorno a questo problema e poi Pesaro dopo l'arrivo dei ministri dei giorni scorsi il ministro Giovannini, c'è stata anche la Morgese che è apparsa in video ebbene arriverà anche Di Maio il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sarà nel capoluogo pesarese il prossimo 30 luglio al lavoro per una Pesaro sempre più nazionale il commento del sindaco Matteo Ricci ebbene che ha ricevuto fuori stagione una grande befana ovvero 1,7 miliardi di finanziamenti per le opere nel capoluogo giunti dallo Stato un finanziamento veramente macroscopico, eccezionale che tuttavia il sindaco intende tutelare dalle mire della malavita in maniera molto molto rigorosa e per questo ha così stipulato un accordo con la finanza e con la procura bande musicali e qui la festa a Osteria Nuova oggi il raduno interragionale dopo due anni di stop alle 21 il concerto in piazza Lombardi del Baldo abbiamo esaurito l'esame sul resto del Carlino apriamo ora il Corriere Adriatico vediamo la pagina fanese l'apertura è dedicata questa volta ad una serie di lavori che stanno per concludersi in diverse parti della città si tratta dei lavori curati dall'assessore all'arredo Barbara Brunori illuminazioni, parco e arredi urbani cantieri pronti a chiudere i battenti sei interventi in dirittura d'arrivo che quali sono questi sei interventi? si tratta dell'illuminazione della pista ciclabile Fano Fenile che dovrebbe essere inaugurata addirittura la prossima settimana pali a led lungo tutto il percorso sostiene così anche un sensibile risparmio per quanto riguarda il costo dell'energia elettrica e poi una nuova illuminazione in via del fiume un tratto servito da 20 pali anche qui a led presso alcune abitazioni che erano al buio e poi è stata annunciata anche l'inaugurazione del parco di Sant'Orso un parco inclusivo realizzato sul modello di quello che è stato fatto nel parco di Carrara ci sono giochi per tutte le età fino a 16 anni ma soprattutto ci sono giochi e strutture fruibili dai bambini norma dotati ma anche dai bambini disabili quindi veramente un parco inclusivo curata la piazza interna al centro commerciale di Sant'Orso dove verrà riattivata anche la fontana magari durante l'estate in maniera saltuaria perché siamo in crisi idrica e quindi no allo spreco d'acqua poi nuovi arredi, panchine, tavoli in via Petri e poi ancora l'inaugurazione di una nuova immagine del Largo Seneca a Lido dove sta per essere ristrutturata la vela del grande grafico fanese e a fine mese verrà inaugurata anche la passeggiata della Darsena Borghese siamo alla fine veramente di questo intervento che si è dilungato molto nel tempo domani la Memoteca, la Memo Montanari compie 12 anni e intreccia 11 eventi una festa grande per il compleanno della Mediateca Montanari ci sarà soprattutto un incontro interessante per il nuovo polo della Federiciana che comprende la Biblioteca Storica Federiciana di Fano con la nuova Mediateca Montanari un polo che valorizzerà appunto l'offerta libraria per tutta la città poi ci sarà anche la nuova gestione del Memo Caffè affidata alla Dusman la ditta che gestisce il servizio di mensa scolastica nel comune di Fano e poi tante altre iniziative letture, canti, filastrocche una serata cantautorale e anche spettacoli di strada oltre alla torta rituale che verrà offerta nel tardo pomeriggio a tutti coloro che vorranno partecipare a questa festa e ieri si è tenuta la commissione di garanzia e controllo del comune di Fano in merito al digestore ma in merito soprattutto alla sorte di Aset Spa è stato un blackout della democrazia scatta il rinvio per un prossimo incontro questo già il titolo dice che non è che si è deciso un granché nella giornata di ieri è stato un incontro interlocutorio un incontro che è stato così indirizzato dal primo intervento di Stefano Marchegiani che è il capogruppo di azione più Europa un intervento che viene definito come un attacco politico netto sferrato durante la commissione di garanzia e controllo ieri sera la commissione di ieri ha confermato dunque la tensione che attraversa il centro-sinistra fanese e in particolare taglia a metà il partito democratico locale diviso tra sostenitori e detrattori della manifestazione di interesse che è stata attuata e che ha visto la risposta di due ditte private che dovrebbero associarsi con l'ASET per costruire questo impianto questo biodigestore per la trasformazione dei rifiuti in fonti energetiche si tratta di ACEA una tra le quattro principali società dei servizi in Italia e di Feronia che progetta un biodigestore a barchi una prospettiva che alimenta questa ancora di più le proteste e il dibattito intorno a questa questione e qui vediamo invece la figura di Donciotti una delle voci più importanti del dissenso per quanto riguarda la lotta per quanto... l'assenso, non il dissenso alla lotta ovviamente è uno dei maggiori promotori della lotta contro le mafie che è intervenuto alla fattoria di legalità l'abbiamo visto prima sul resto del Carlino insieme a Pedretti segretario nazionale della CGL ha ricordato Gargamelli invece a San Costanzo si fa polemica sui fondi del PNRR facciamo squadra e non perdiamo l'opportunità parla così il vice sindaco Ciani che è andato a Roma con l'Assemblea dei Lanci per un confronto tra i comuni italiani a Senigallia ci sono i decolors cambia la viabilità di vieto di sosta sul lungomare Mameli per l'affluenza delle persone dalle 12 alle 21 su entrambi i lati giornata al via con la polizia delle spiagge con plastic free vediamo anche una notizia di carattere regionale si parla ancora molto diffusamente dell'arretramento della ferrovia adriatica un progetto per Ancona con la Politecnica e l'Istao l'università si è inserita e vediamo qui in questa cartina una grafica per quanto riguarda il progetto il bypass di Pesolo finanziando con 1,2 miliardi da Pesolo a Falconara e poi gli altri due tratti da Porto Recanati a Civitanova Porto San Giorgio a Grotta Mare però sono ancora da finanziare ebbene con questa notizia terminiamo la nostra rassegna stampa vi auguro un buon weekend e poi la rassegna stampa vi dà un appuntamento a lunedì prossimo alle ore 7 e questo è tutto per il momento a risentirci a un'epoca a a